carissimi fratelli e sorelle gioia pancia in abbondanza a tutti voi la grazia del signore cerca le sue creature dio per questo ci ha creati per farci eredi della sua gloria prenderci partecipi della sua natura come ci ricorda santi reneo dio ci ha creati per essere nelle sue mani oggetto della sua grazia della sua benevolenza per farci eredi della sua gloria eterna per renderci partecipi delle ricchezze del suo spirito non ci ha creati per renderci schiavi di una legge o di norme o di regole tutt'altro ma per essere oggetti del suo amore per accogliere la sua benevolenza per dimorare lui e lui dimora e noi fa comunione con noi ora dio è spirito fratelli è spirito d'amore è spirito santo è spirito di potenza di gloria di santità e si manifesta a noi e ciò che lui manifesta di sé si chiama rivelazione dio si rivela e l'uomo per crescere e realizzare il progetto di dio è chiamato ad alimentarsi della parola di dio cos'è questa parola di dio è dio che si rivela dio che si manifesta tutto ciò che dio manifesta di sé è parola di dio e la parola di dio è il figlio di dio che un giorno si è fatto carne nel grembo della vergine maria ed è apparso visibilmente come ci ricorda san giovanni quando ci dice che la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta ricordiamo ancora le parole di san paolo a tito è apparsa la grazia di dio a portatrice di salvezza per tutti gli uomini che che ci insegna a rinelegare l'impietà e a vivere con sobrietà e santità in questo mondo dio rivela a sé stesso ma chiediamoci prima di tutto dov'è dio e di riempire la terra il mondo non lo poco l'universo non lo può contenere dire spirito non occupa spazio ed è presenza infinita ora l'uomo non percepisce la presenza di dio con i sensi e neppure con la semplice ragione dio si rivela e l'uomo che è stato creato a immagini di dio a dentro di sé noi abbiamo dentro di noi lo spirito e questo spirito ci mette in grado di accogliere il dono di dio la sua presenza ecco allora che la parola di dio fratelli si manifesta a noi innanzitutto quei messaggi che dio ci dona san paolo nel primo capitolo della lettera ai romani parla di questa rivelazione e dice che l'uomo però pur avendo conosciuto la grandezza di dio non gli ha reso grazie come a dio non lo ha adorato ma maneggiate nei suoi ragionamenti per cui si è la sua mente è diventata ottusa chiusa eppure essendo sapiente ha scambiato la gloria di dio con immagini di quadrupedi diretti di animali vari ma dio non è così di amore infinito e allora si rivela attraverso la sua parola e per parole di dio noi intendiamo innanzitutto il creato dove dio ha lasciato la sua impronta e il capolavoro di dio è l'uomo stesso e l'uomo stesso tu sei immagini di dio non solo immagine ma sei specchio della sua gloria in te dio ha realizzato la sua immagine ha realizzato la pienezza del suo essere ti ha fatto simile a sé e ogni creatura umana dentro di sé un'anima spirituale che lo rende simile a dio per cui come dio è amore infinito ha creato noi per essere amore amore e diventare amore ecco allora dio si rivela nella sua opera si rivela nei suoi messaggi si rivela attraverso i suoi profeti si rivela attraverso tutto ciò che ci circonda attraverso gli avvenimenti della vita ma occorre che l'uomo si presenti davanti a dio con lo spirito aperto per accogliere perché dove non c'è l'azione dello spirito la sua mente umana e tantomani i sensi sono in grado di percepire la sua realtà come si ricorda l'apostolo paolo nella seconda corintica quando dice che la parola di dio e rimane velata incomprensibile alla mente umana ma quando c'è la conversione al signore noi ci apriamo nella fede allora dio si rivela e si fa comprendere e noi ho visto scoperto riflettendo come in uno specchio la gloria del signore veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello spirito del signore e quale deve essere la risposta dell'uomo alla rivelazione di dio deve essere quella della fede della fiducia quello della gratitudine quello dell'accoglienza perché dio rivela se stesso e la sua parola produce ciò che gli dice ce lo ricorda il profeta isaia che oggi oggi proclamiamo un brano che ci dice come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare perché dire seme a chi semina e il pane a chi mangia così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata la parola di dio produce sempre ciò che dice perché rivela dio che la presenza di dio l'opera di dio la vita di dio e gesù nel vangelo richiama le parole del libro del deuteronomio dove dice appunto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di dio eccolo il bisogno di alimentarsi con questa parola perciò la creatura umana di fronte alla presenza di dio reagisce come ci insegna il salmo 34 magnificate con me il signore ecco la lode magnificate con me il signore esaltiamo insieme il suo nome ho cercato il signore mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato guardate a lui sarete raggianti i vostri volti non dovranno arrossire questo povero grida e il signore lo ascolta lo salva da tutte le sue angosce gli occhi del signore sui giusti i suoi orecchi al loro grido di aiuto il volto del signore contro il malfattore per eliminarne dalla terra il ricordo gridano i giusti e il signore li ascolta li libera da tutte le loro angosce il signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti e gesù racchiude fratelli tutta la fede e tutta quella che è la nostra relazione col padre in una semplicissima preghiera che non vuole essere una formula ma come un itinerario di fede che noi vogliamo fare nostra in questo momento quando pregate dite padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male se voi infatti perdonarete agli altri le loro colpe il padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi e questa preghiera fratelli la chiesa la mette continuamente sulle nostre alambra e noi quando la recitiamo pensiamo a ciò che diciamo e lasciamo che lo spirito del signore ci penetri l'anima e ci porta ad esultare in Dio a gioire in lui e per lui a Dio sia la lode per Gesù Signore e Salvatore nostro che vive il regno per tutti i secoli dei secoli amè e tu Vergine Santissima Madre nostra guidaci in questo cammino prestaci la tua lode fa che anche il nostro cuore insieme al tuo esulti continuamente alla presenza del Signore dicendo l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha fatto grandi cose colui che è potente e santo è il suo nome Amen